Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione targateiphoneitalia.com Ancora una volta vi parlo di un prodotto di Arker che è una marca di cui sto testando molti prodotti in questo periodo veramente tutti molto interessanti in particolare per chi come me ha un iPhone e ha un Apple Watch questa azienda ha realizzato questo bellissimo prodotto in acciaio veramente molto curato tra l'altro ha uno stile molto simile a quello dei prodotti Apple qui ci sono degli angoli sfumati, cromati, insomma come volete chiamarli esattamente come quelli degli iPhone 5, 5S, 6E veramente carino, ci sono dei piedini qui per non farlo muovere ma appunto c'è soprattutto la possibilità di ricaricare contemporaneamente un iPhone o anche un iPad, quello che volete e un Apple Watch, quindi andiamo a scoprirlo insieme nella nostra recensione Allora ragazzi il prodotto è molto semplice non ha neanche senso che vi dica di nuovo a cosa serve abbiamo qui sul retro cosa c'è? questa cosa non l'avevo notata ah è un bellissimo vano forse per nascondere ah bellissimo, bellissimo qui forse cosa c'è? aspettate voglio controllare questa cosa voglio controllare questa cosa che c'è qua dentro? in realtà non c'è niente c'è una linguetta che si solleva ma apparentemente dentro non c'è niente va bene, va bene, va bene quindi andiamo invece a vedere cosa c'è in questo prodotto c'è intanto, ora sta linguetta però non si richiude chiuditi ok c'è intanto appunto un dock per iPhone realizzato con questo sistema che gli consente di muoversi perché per farsi insomma che il telefono a seconda delle dimensioni che abbia comunque vada sempre ad appoggiarsi qui per stare bello stabile invece qui c'è lo spazio per inserire e lo facciamo subito il cavetto per l'Apple Watch ovviamente bisogna inserirlo in un certo modo bisogna inserirlo bene io l'avevo già fatto in realtà ora lo sto rimontando per farvi vedere insomma più o meno come si monta si monta in questo modo molto semplice e c'è questa parte in plastica che ci aiuta appunto a fissare poi il connettore il connettore magnetico eccolo qui allora fissato più o meno eccoci qui e per quanto riguarda l'iPhone ovviamente basta soltanto inserire il connettore lightning all'interno dell'iPhone stesso appunto questo fatto che si muova è positivo però in fase di inserimento ci dà qualche problema mentre per l'Apple Watch ci basta metterlo in questo modo ora lo stand per la ricarica di Apple Watch supporta anche la modalità notte se io adesso l'avessi collegato insomma all'alimentazione in questo momento comparirebbe la modalità notte con la relativa insomma visualizzazione dell'orario in orizzontale l'unica cosa è che non è un dock pensato per essere utilizzato in questa modalità è pensato più che altro per la modalità verticale intanto perché sta meglio l'orologio poggiato così ma anche perché in questo modo la presa insomma del magnete per qualche motivo è meno stabile così magari se volete proprio essere sicuri stringete anche il cinturino per farlo essere il più possibile aderente insomma al supporto e l'orologio non si muove comunque soluzione molto carina per ricaricare questi due prodotti iPhone ed Apple Watch ma sul retro abbiamo anche altre due porte USB oltre questa che è quella che poi funge da alimentazione del dock che andrà ad alimentare direttamente solo l'iPhone perché oppure semplicemente potrete fare così per alimentare anche l'Apple Watch io avendo delle prese comunque vicine a una multipla alla fine ho preferito collegare l'Apple Watch all'alimentazione e riservarmi queste due USB eventualmente per collegarci qualche altro prodotto che voglio ricaricare insomma senza interferire senza sprecarne una semplicemente per l'Apple Watch che ha tra l'altro un cavetto molto lungo e quindi possiamo appunto collegarlo ad altre prese nei paraggi comunque se proprio volete appunto collegate il cavetto Lightning dell'Apple Watch lì e avete un'alta porta aggiuntiva per ricaricare un altro prodotto ancora veramente un'ottima soluzione io questo dock così come lo vedete praticamente lo sto utilizzando da quando mi è stato fornito ogni sera quando devo ricaricare i miei dispositivi arrivo li sistemo là uno vicino all'altro vicino al comodino e la mattina dopo insomma ce li ho pronti per l'utilizzo trovate chiaramente il link in descrizione per l'acquisto per i prezzi, per la disponibilità, per tutto ciò che volete insieme alla recensione testuale di questi prodotti su iPhoneItalia.com qui nei commenti su YouTube fatemi sapere cosa ne pensate di questa soluzione e se siete interessati appunto nella recensione trovate anche il link appunto per acquistare questo prodotto direttamente da Amazon ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com ragazzi alla fine ho capito cosa serviva a quell'apertura in sostanza e questa cosa l'ho scoperta proprio direttamente nella recensione perché non avevo notato prima questa apertura guardate io posso far passare il cavetto di Apple Watch in questo modo e poi fuoriesce da qui e guardate cosa c'è qua c'è un'altra USB ulteriore quindi in sostanza non ha senso cioè non si vanno comunque a sprecare le due USB sul retro ma basta inserire questa USB qui come al solito la metto nel lato sbagliato i prodotti Arker mi danno qualche problema nell'utilizzo delle USB sinceramente a trovare la dritta ecco ecco praticamente adesso io collegando il dock non avrò bisogno di collegare anche il cavetto dell'Apple Watch che posso arrotolare qua dentro per poi richiudere questa parte che non avevo neanche visto che si poteva aprire l'ho scoperto veramente appena ho chiuso appena ho finito di registrare la video recensione per fortuna comunque alla fine voi nel montaggio vedrete tutto come se fosse lo stesso video senza interruzioni io appunto mi sono messo a curiosare perché in presa diretta non potevo farlo perché sennò il video poteva prendere una brutta piega e diventare molto noioso invece guardate in questo modo ora ho arrotolato il tutto chiudo e il gioco è fatto veramente ancora più carino così questo dock per Apple Watch e iPhone vedete il filo è nascosto benissimo qua dietro eccellente davvero eccellente controlli eccellente Grazie a tutti.